E a questo punto chiamiamogli l'ascolto. Molto piacere, lo assumiamo come tale. Auguri e complimenti, grazie. E abbiamo un'altra prevenzione da effettuare, perché è la volta dello scultore Sergio Lombardi di Castro de Bosci, che ha realizzato un'opera da consegnare a Nino Manfredi. Buonasera. Qui si gioca in casa. Allora, vogliamo spiegare questo oltre? Sì, con molto piacere. Innanzitutto devo dire che fa molto caldo. E io? Sì, sarà l'emozione, Nino, di stare vicino a te, così, come puoi stare. Allora, senta. Io, per questa grandissima, diciamo, manifestazione, ho voluto creare con le mie mani questa targa raffigurante, lo stemma di Castro. Cosa che noi sappiamo. Lei è nativo di Castro. Sì. E lo dobbiamo dire forte. Lo dobbiamo dire forte. Fa benissimo. Fa benissimo. Poi, c'è il barista di Giacana, perché, perché fosse un solo lavoro, non lo diciamo, c'è la chiesa. Fusse un solo lavoro. E' stato l'emozione. E' stato dunce. E' stato un solo lavoro. E' stato facile. Grazie. No, prego, ci consegniamo quest'opera, passiamo a vedere subito il film. E' il muro di spadole, già vuole significare la valutazione. Allora, grazie a Sergio Lombardi. E' un... Sì, sì, sì. Ci vuole una sessione. Allora, potremmo il ristorante con Nancy Bride, va bellissimo Nancy Bride. Possiamo... Sì, sì, sì. Un bacio. Allora... Sì. Questo è l'ultimo, Nino. Sì. A tra l'altro, grazie. Perfetto. Produttore, no? Allora, gliela diamo. Allora, grazie a Sergio Lombardi. Naturalmente grazie a Nino Manfredi. Grazie di tutto, grazie di tutto. grazie a Nancy Brilli, Luca Manfredi, a Massimo Cardillo. Passiamo subito a vedere il film. Grazie di tutto. Grazie di tutto. Applausi 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 Grazie.